ben ritrovati in questo aggiornamento meteo peggioramento del tempo nel fine settimana già iniziare da giovedì una vasta perturbazione atlantica darà in moto a venti sciroccali su piogge abbondanti al nord e anche l'occasione di temporali abbondante nevicate sulle alpi e zone di montagna venerdì la giornata più peggiore abbondanti piogge al nord e toscana centro settentrionale a fine giornata interesserà anche il lazio come già detto ci sarà vento molto forte a tratti anche con raffiche molto forti di scirocco proveniente da sud ovest tornerà la neve sugli appennini settentrionali attorno ai 1500-1200 metri giornata piuttosto instabile non perdete gli aggiornamenti sui post community iscrivetevi al canale per seguire tutte le informazioni aggiornamenti meteo e non solo grazie e a presto grazie a tutti